Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 ricordiamo che è chiuso per lavori fino alle 20 il tratto tra il Bivio per la variante di Valico e Aglio in direzione Firenze. In direzione Bologna, 3 km di coda tra Firenze Scandici e il Bivio per la 11 per incidente. In direzione Roma, rallentamenti tra Calenzano e Firenze Scandici per materiali dispersi. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. A causa di due frane sulla statale 12 della Betone del Brennero chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Borgo a Mozzano e sulla statale 64 Porrettana chiuso sempre in entrambe le direzioni il tratto tra Pavana e Ponte della Venturina. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!